Da venerdì a domenica Isola del Piano sarà protagonista della festa della risata, gastronomia e buon umore. Iniziativa la prima edizione promossa dalla Proloco con i patrocini del comune e della provincia di Pesero Rubino. Obiettivo della tre giorni è quello di essere un laboratorio popolare con contenuti culturali e sociali per promuovere e valorizzare il territorio e sensibilizzare verso le buone pratiche del riuso e dell'ecosostenibilità che si adotteranno anche durante la manifestazione. Isola del Piano notoriamente è un portabandiera degli anni 70 del biologico e infatti noi nella festa avremo un menu tutto esclusivamente basato su prodotti biologici a chilometro zero. Anzi ci teniamo particolarmente a far presente che la festa è plastica free perciò non avremo plastica anzi tutto il materiale sarà prevalentemente in materbi e i produttori e fornitori del cibo che somministreremo saranno tutti locali, tutti biologici e particolarmente legati al territorio. Poi avremo una parte che riguarda gli spettacoli che vertono il perno sarà su Biccio e il San Costanzo Show che poi ci aglietteranno con le loro performance artistiche. Avremo anche uno spazio giovani innovativo con molte creazioni dal punto di vista tecnologico anche riguardo l'allestimento scenografico, le luci e la musica. Insomma dovrebbe essere una festa che coniuga praticamente il disimpegno e la leggerezza comunque con i contenuti prevalentemente legati al territorio. Il titolo per me, quello che avevo proposto era Bio Riddens, il buon umore gastronomico perché credo che Isola del Piano abbia il merito di essere ancora oggi la capitale del biologico e dove è nato il biologico in Italia. Non solo i cibi che andranno a servire in questa festa proverranno tutti da aziende di Isola del Piano ad eccezione del pastificio Columbro di Fanno che ci ha gentilmente omaggiato delle sue tagliatelle biologiche che è un'eccellenza poi nazionale e tutto quello che poi saranno anche sughi eccetera vanno fatto con la carne degli allevamenti biologici che sono Isola del Piano. Tutto questo condito anche da una vena di risata simpatica Columbicio che io personalmente non conosco e l'ho visto solo su alcuni sketch su YouTube ma mi dicono che è simpaticissimo per cui spero che tutto sia all'altezza della situazione che gli amici che verranno a trovarci possano trovarsi bene e vivere una serata diversa.